Sì, noi purtroppo abbiamo anche, oggi no, perché oggi abbiamo subito gol dopo 5-6 minuti, quindi sappiamo che oggi era una partita molto difficile, ma ci abbiamo messo del nostro negli altri due gol, secondo me nel primo gol è stato bravo Suso, ma poi negli altri ci abbiamo messo del nostro e non abbiamo avuto la reazione. In quanto riguarda le altre partite, noi eravamo davanti sull'1-0 sia con il Torino, con Udinese, con la partita scorsa, siamo stati secondo me deboli mentalmente, quindi questo è il rammarico e anche il vedere che la squadra non ha la reazione, quindi questo fa male, fa male, però purtroppo noi siamo 8 punti e domenica, sabato, abbiamo una partita importante, bisogna guardare questa, questa è la prossima partita. Ripeto, questa partita era molto difficile, è diventata ancora di più, dopo 5 minuti prendere un gol a freddo, diciamo. Mister, buonasera. In settimana aveva detto che la partita è difficile, però voglio una squadra di uomini duri, insomma una squadra di gente che vada in campo con orgoglio. Oggi ha visto questa reazione e poi la vittoria del Crotone complica definitivamente. No, secondo me fa bene la vittoria del Crotone, fa bene perché poi l'Empoli è fermo, noi bisogna guardare in casa nostra, anche perché poi penso che il Crotone sia un esempio per noi, perché il Crotone è una squadra che non ha forse grande individualità, ma ha un gruppo, ha una squadra, quindi ci credono e nessuno secondo me pensava che poteva fare punti oggi, invece ha avuto il coraggio e ha avuto la compattezza come squadra e questo è quello che ci sta mancando un po' a noi, di essere proprio squadra nei momenti importanti, in momenti di difficoltà come abbiamo trovato e non siamo riusciti a venire fuori come tale. Chi molla non lo porto neanche in trasferta, oggi qualcuno ha mollato secondo lei? No, secondo me è stato il Milan che sono stati bravi a non pensare ad altro, pensare al Palermo senza presunzione, si sono trovati subito, ripeto, con merito un gol e noi non è che abbiamo mollato, però hanno giocato molto meglio di noi e in più noi il gol secondo me abbiamo messo del nostro, quindi non era forse oggi una questione di mollare, no, secondo me non è che si è mollato, sino che il Milan è stato bravo. Altre domande? Grazie.